Allora, intervisto io, Osvaldo, perché abbiamo trovato un cameraman d'eccezione, che è l'avvocato? Avvocato Roberta, però non diciamo il cognome. Penalista. Penalista, perché se non si può dire il cognome. Che fa le arringhe. Che fa le arringhe. Fale arringhe. Fale arringhe, che insomma, che fa arringhe. Fale arringhe, però si vergogna di fare l'intervista. Si vergogna di fare l'intervista. Che abbiamo detto, facci almeno da cameraman. Da cameraman, facciamo, da dire fare l'intervista. La signorina è qua vicino, che è stata condannata. Ah, ci sono anch'io. C'è la divisa arringhe. La signora. L'ha fatta condannare, quindi come avvocato, Penalista, non va bene. Non va bene. Parliamo della serata. Parliamo di stanno. Che cos'è? Allora, la serata è la seconda edizione della Notte Bianca, la Fit Time in via Venezia Ponte Cagnano-Faiano. Abbiamo proposto delle nuove lezioni per l'anno prossimo, quindi ci saranno delle situazioni un po' particolari. Fatto lezioni tu con... Con il team Italia, Petrosino con la Volpe. Con il mister con la Volpe, Petrosino. Petrosino. Valentina Montone. Valentina Montone per la Macumba e poi ovviamente c'era un altro personaggio che doveva fare lezioni e non dicevamo chi è, perché purtroppo ho avuto un problema e non è potuto venire. E ci dispiace. E ci dispiace. Proprio siamo andati avanti, abbiamo presentato queste nuove lezioni del Functional Fit, che facciamo parte del team Italia. Per l'anno prossimo ci presentiamo alla fila del fitness. Ma tu sei official presenter di quale manifestazione? Allora, noi sono official presenter della festezione di Mondo Fitness. Che partirà fra pochissimi. Che fa il 5 giugno sono a Roma, dopodomani siamo a Sebs, ne veniamo da Rimini, poi partiamo per la Bulgaria e per la Romania. Quando torni qua? Guarda, io vorrei tornare sempre qui, però ovviamente il lavoro mi porta sempre più lontano, perché ovviamente saliamo di grado e andiamo sempre più avanti. E quindi devo dire che Osvaldo San Martino è più in giro per voi di me. Più in giro per voi perché lo ha la sua TV in giro per voi. Ci vuoi presentare chi sta accanto a te per favore? Allora, a fianco a me c'è una grandissima e bellissima signorina, dove io gli faccio il personal trainer. Sapete come si chiama? Alessandra? Padulo. Senti, come ti trovi alla Fit Time? Benissimo. E come sta andando il tuo fisichetto? Ottimamente, no, poi lui in persona al terreno è bravissimo, mi segue, mi dà consigli, gli manda i messaggi la mattina. No, 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 sempre attinenti all'attività fisica, lavorativi, lavorativi. E basta, sono imbarazzata. Imbarazzata. Vuoi fare un saluto a tutti quanti che si stanno guardando della persona che è passata in questo momento? Sì, 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 che è una mia cara amica. Oltretutto, ciao a tutti. Ciao a tutta la Fit Time, a tutti quanti. Un grande bacino, andiamo a bacino. A vederci.